Provvidenziale intervento dei poliziotti delle volanti, i quali qualche sera fa hanno soccorso una donna che si era casciata al suolo a causa di un malore. I poliziotti stavano eseguendo un giro di controllo nella zona di via Rochester, quando hanno notato la donna cadere improvvisamente a terra. Gli agenti sono accorsi prontamente, dato che la donna non respirava hanno subito eseguito un massaggio cardiaco. Nel frattempo l'equipaggio della volante ha chiamato il 118, ma la manovra di soccorso si è rivelata fondamentale, viste le condizioni della donna. Sono state necessarie oltre 20 compressioni toraciche per riuscire a farla rinvenire. I due agenti in servizio avevano anche frequentato il corso di rianimazione cardiopolmonare necessario per l'abilitazione all'utilizzo del taser. Nel frattempo sono arrivati in via Rochester anche i soccorritori del 118, che hanno accompagnato la donna all'ospedale Sant'Elia, dove sono stati eseguiti gli accertamenti del caso. La paziente adesso è in buone condizioni di salute.